Tutto positivo Andrea, ma tranquillissimo, tu lo sai che io ci sono sempre qua per gli amici, quindi quando avrebbe sogno non ci sono problemi. Ora rispondo anche agli altri che purtroppo devono andare alla posta anche domani, così mi sbrigo anche altre cose. Comunque grazie, a tutti per te Andrea. Positivo Federico, quindi mi confermi che la QSL è arrivata? Come Andrea? Io non ti arrivo. Mi confermi l'arrivo della QSL Federico? Sì sì, ti confermo, ti confermo e ti ringrazio anche per quelle due righe che mi hai scritto, dai. È positivo, dai, dovere. Ok, dovere e piacere. Vediamo un po' se c'è anche l'amico Pesciolino del forum Roger K qua dalla provincia di Torino. Rilancio subito lui, vediamo se poi lo riesci ad ascoltare Federico. Vai avanti per te Pesciolino, mi è sembrato di ascoltarti. Sì, qui Pesciolino, saluti a Federico e a Gettorino. Gettorino mi arrivi un po' bassino ma a pezzo ci sono i colline di mezzo, invece Federico mi arriva a boppa. E lo ricordo bene, Federico di dove sei? Ciao Pesciolino, comunque ti ascolto. Perfetto, perfetto, però non mi ricordo del forum, da dove chiami? Sì, perfetto, io mi trovo qua in Sicilia, dai, sono a Scienziato, una Roger K 093. Sì, Pesciolino, giusto? Sì, andiamo. Perfetto, il famoso Scienziato, ora ho capito tutto. Bene, mi arrivi con un Santiago di 5-7, una radio ottima, un po' metallica. Tu come mi senti? Io ti ascolto benissimo, c'è anche il Roberto qua, anzi, ora gli rilancio. Tu mi dici qua benissimo, 3-5, va bene? Andrea, vai da te che ti dico una cosa e ti faccio dire un po'. Vai da te, Andrea. È positivo ragazzi, sì, ma mi arrivi benissimo anche te, Federico, mi arrivi veramente molto bene. Intanto in sottofondo io ascoltavo delle altre chiamate, non ho capito l'indicativo, ma comunque chiamate dagli amici di Roger K. Eventualmente facciamo qualche secondo di bianco, vediamo se riescono a venire avanti e vediamo se li riusciamo a copiare, dai. Ok, di nuovo a te Federico dopo qualche secondo di bianco. Ok, io ti lancierei per il Roberto così poi ci scambiamo con l'amico Pesciolino. Andi, l'obiettino, guarda te. Ciao, ciao. Grazie per la visione!